si lo so mi hanno detto che sempre quando dico buona giornata vi prendo in giro perché di solito le dico sempre dopo un quad molto pesante ma è vero vi prendo in giro comunque oggi 5 marzo 2021 una corsa di 10 minuti max effort quindi corsa non jogging 200 metri di squat e altri 10 minuti di corsa max effort è tutto per questa settimana ci vediamo lunedì per un'altra settimana insieme la seconda di marzo su cper tv